Il decreto del Presidente della Regione Abruzzo, con il quale D'Affonso avoca a sé tutte le funzioni riguardanti ogni incarico dirigenziale dell'Aggiunta regionale, nonché la proposta e la designazione dei rappresentanti degli organi amministrativi di vertice di enti e aziende controllati dalla Regione, è illegittimo. E quanto risulta dal parere espresso dal Collegio regionale per le garanzie statutarie. Questa mattina, in una conferenza stampa all'emiciclo, i consiglieri regionali di Forza Italia, Paolo Gatti e Lorenzo Sospiri, hanno posto il risalto quanto rilevato dal Collegio regionale per le garanzie statutarie a seguito del parere richiesto dai consiglieri regionali del centrodestra. Questo decreto del Presidente della Giunta regionale di aprile, che noi subito abbiamo osservato, dicendo che era palesemente illegittimo, violava leggi regionali, voleva riassumere in capo al Presidente della Giunta regionale i poteri che non ha di proposta, designazione, nomina di dirigenti, direttori, membri di consigli di amministrazione. Questo non si può fare, non si poteva e non si può fare perché la legge regionale prevede altre procedure. Non siamo stati ascoltati, come al solito, nei consigli che abbiamo dato. Adesso arriva l'autorevole parere del Collegio delle garanzie statutarie e dice che questo decreto è illegittimo. Noi invitiamo il Presidente della Giunta regionale a correggersi, a revocare un decreto dichiarato illegittimo e anche tutte le nomine fatte in conseguenza di un decreto illegittimo, rispettare le norme dell'ordinamento giuridico regionale è cosa giusta e spesso è anche una cosa molto utile.